Migliaia di fedeli si sono radunati a Piazza di Spagna, a Roma, nel giorno in cui la Chiesa celebra l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria per partecipare al tradizionale omaggio del Papa davanti alla Statua della Vergine. Qui accolto dal Cardinale Vicario Agostino Vallini e dal Sindaco di Roma, Virginia Raggi, Francesco ha pregato per i deboli e gli indifesi. I bambini, in primo luogo, sfruttati e ingannati, le famiglie, motore e linfa della società, spesso oppresse e affaticate da problemi interni ed esterni, i lavoratori privati della dignità e quelli che un lavoro non ce l'hanno più. Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato per ritrovare la capacità di guardare le persone e le cose con rispetto e riconoscenza, senza interessi egoistici o ipocrisie. Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato per amare in maniera gratuita, senza secondi fini, ma cercando il bene dell'altro, con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi. Abbiamo bisogno delle tue mani immacolate per accarezzare con tenerezza, per toccare la carne di Gesù nei fratelli poveri, malati, dispreziati. Fa che non cediamo allo scoraggiamento e che, confidando nel tuo costante aiuto, possiamo impegnarci a fondo per rinnovare noi stessi questa città e il mondo intero, ha aggiunto il Pontefice, deponendo poi un grande cesto di rose bianche ai piedi della Statua dell'Immacolata. Prima di lasciare Piazza di Spagna per pregare ancora davanti la Salus Populi Romani a Santa Maria Maggiore, Francesco ha abbracciato e salutato i malati, regalando a ciascuno la sua carezza. Grazie.